Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi, e finalmente, consentitemelo dopo una vita, vi voglio presentare il gioco da tavolo e il board game ufficiale di Aliens. Prodotto che vedete qui davanti della Gale Force 9, in pre-order, versione retail, non è stato né un Kickstarter né niente del genere, però è già sold out e verrà ristampato i primi di gennaio del 2021 o al massimo i primi di febbraio. Al momento è sold out praticamente ovunque, ma poi in fondo, nel caso, vi dico qualche copia ancora dove la potete trovare. Ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Se vedete un po' di casino qui dietro è perché stiamo facendo un po' di lavori nel South Park, quindi c'è un po' di casino, ma fra poco tornerà tutto quanto a Modino, anche perché vogliamo riprendere e registrare un pochino di partite e gameplay. Comunque, il gioco che vedete qui davanti è Aliens, gioco ufficiale perché la Gale Force 9, che dovrebbero essere inglesi, spero di non aver detto un'eresia, comunque inglesi e americani, hanno comprato i diritti dalla Fox e hanno i diritti ufficiali della saga di Alien, che un anno prima ce l'aveva la Prodoss Games. Se vi ricordate, ve l'ho anche portato sul canale, ma lo rifarò anche qualche gameplay, io lo adoro, uno dei miei board game preferiti erano Alien contro Predator. Hanno perso i diritti, li sono stati tolti, perché ora poi è tutta roba, oltre della Fox, anche della Disney, come sapete, Alien, e sono stati presi dalla Gale Force 9, che ha tirato fuori questo gioco da tavolo ufficiale, e ora vi dico il boom che mi ha sciolto il cuore, che prevede gioco base che vedete qui davanti, più due espansioni e più tanti elementi scenici 3D. Quello che vedete qui davanti è solo il gioco base, le espansioni e le ordinate mi stanno arrivando, quindi quando arriveranno ci farò un altro video a parte, ed è un gioco completamente cooperativo che vi vedrà rivivere proprio il film Aliens. Questo non è Alien contro Predator, questo è proprio il gioco ufficiale del film di Aliens. Quindi sarete il gruppo di amarini coloniali della Sulaco, famosi Hudson, Vasquez, Ripley, X, tutti quanti, c'è anche Newt, e dovrete andare appunto sul pianeta, sul planetoide, o per meglio dire luna, l'LV-426, per fare le varie missioni del film, trovare Newt, scappare, mettere le sentry gun, difendersi, poi alla fine scappare e nuclearizzare, come diceva X, per poi fare il combattimento finale con la regione aliena. È un gioco molto veloce, è un gioco cooperativo, si prevede anche una modalità dove un altro giocatore si metta ad usare le Xanomorfi, ma il vero succo e la vera natura di questo gioco è appunto la cooperazione in un gioco che vi farà rivivere in 4 o 5 con la missione alternativa della regione aliena tutto quanto il film Aliens. Ed è veramente, veramente una cosa che aspettavo da una vita, lo sapete, la mia saga sci-fi preferita di sempre, dove si sceglie una cosa nella vita, sceglierei Alien, ve l'ho sempre detto. Comunque vi faccio vedere un po' di cosa tratta, ma prima di tutto, unboxing, confezione del gioco, abbastanza grande, non grandissima, però bella, piena di componenti. Vedete, Aliens, Another Glorious Day in the Corps, che è la prima frase che dice il Sergente Pohn quando all'inizio si svegliano, questa è un'altra splendida giornata nel corpo dei Marines, se vi ricordate, e le espansioni si chiamano Ultimate Badasses, che poi vi farò vedere, e Get Away from Her You Bitch, quello che dice alla fine Ripley quando combatte la regione aliena, ufficiale della Twentory Fox, e gioco della Gale Force 9 in inglese, in versione italiana, non esiste, ma il manuale, in versione solo PDF, non stampato, almeno così hanno detto, verrà tradotto dalla Cosmic Games quando uscirà in versione Retail. E qui si vede il classico Pulse Rifle con una munizione restante, quindi vuol dire che cacchetta. Apriamo. All'interno le plancette delle missioni, dove la prima missione è Newt, che vi fa vedere come è Zombicide, vi fa vedere il setup, come setupare tutti i pezzi della mappa, come mettere vari obiettivi, le varie icone, e qui accanto vi fa vedere la leggenda. Quindi qui ci avete scritto tutto, e qui dietro c'è la modalità Bug Hunt, che è una modalità alternativa per una corsa alle armi più arcade, nel senso, qui non fate la campagna né niente, qui dovete correre, ammazzare gli alieni e sbloccare nuovi contenuti. Quindi trovate le crate, trovate le casse con dentro l'equipaggiamento e quant'altro. Poi c'è il regolamento, che è veramente, ragazzi, semplicissimo. Purtroppo sono in inglese, però è veramente semplice, ci fa vedere tutte quante le carte dei personaggi, queste qui sono addirittura il contacolpi delle Sentry Gun, tutti i personaggi, l'Xenomorphi, e immagini ovviamente prese dal film, io ho la pelle d'oca, veramente non ve lo nascondono, era una vita che aspettava un gioco del genere, e tutte quante le regole del gioco, anche della modalità Bug Hunt, che ragazzi è una cavolata. Questo gioco è veramente una cavolata e il discorso di dover esaurire le carte, come vedete, carta mazzo della resistenza, carte resistenza esaurite, quindi tappate, e pila degli scarti, queste sono le resistenze che potete utilizzare per fare le vostre azioni. E l'ho apprezzato molto, perché ti consente di focalizzarti su qualcosa in particolare a discapito di altro. Poi, tutti quanti i token dell'Xenomorphi, i Facehugger, le Sentry Gun, che questo mi piange il cuore perché casse, Facehugger, Sentry Gun e computer, questi qua c'erano proprio i prop in 3D. E quando l'ho ordinato io dal Manga World di Pescara l'aveva finito, dove ho acquistato il gioco, quindi mi dispiace non averli presi, vabbè ma tanto è roba che si può ritrovare tranquillamente anche su Tingiverse, e poi abbiamo tutti quanti i contacolpi, il contacolpi del fucile impulsi, delle Sentry Gun e uno sbotto di token. Qua sotto le istruzioni per montare le miniature, perché le miniature sono da modellismo, non arrivano già costruite e non sono in cassa come quelle della GV, e sono anche vendute singolarmente. Volete comprare solo i Marine senza comprare il gioco? Spendete 25€ e vi portate a casa tutti i Marine, oppure spendete 20€ e vi portate a casa tutti gli Xenomorphi, perché questo è un gioco anche di collezionismo. Se volete fare delle miniature per farci un diorama, il gioco si presta benissimo. Poi vabbè abbiamo piruletti di plastica per fissare i contacolpi e cose del genere, i dadi, le carte resistenza, le carte missione e anche la carta che vi spiega come va avanti il turno, e poi qui le miniature, guardate la qualità, non è eccellente ragazzi, ma non è che non è eccellente, sono belli però ovviamente non sono quelle della Prodos in resina, poi sono anche più piccoline come scala. Comunque vediamo X col fucile a pompa, Vasquez con la Smart Gun, quella che ha l'automira, poi qui vediamo Hudson che ha il rilevatore di movimento e poi tutto il resto del Marine della scatola più gli Xenomorphi che sono veramente, veramente spettacolari. E poi sono gli Xenomorphi non di Alencontro Predator, sono quelli che hanno assunto sembianze tra virgolette umani perché nati da ospiti umani nell'LV426 sulla colonia di Acheron. Vi faccio sul pianeta di Acheron, scusate, colonia di Edelis Hope. Vi faccio vedere un po' come funziona. Quello che vedete qui davanti è una replica dell'APC dei Marine Coloniali, che è il veicolo di trasporto leggero che avete visto nel film Aliens, che non ci vede nulla col gioco, è una cosa a parte anche perché è fuori scala, cioè guardate quanto è grande, che mi ha stampato mia moglie con la stampante FDM, la nostra Artillery Genius, e poi ci farò un video dedicato, ve lo farò vedere perché è qualcosa veramente di spettacolare, e poi guardate voi la qualità. È veramente stupendo. Ora, come funziona il gioco? Il gioco, ragazzi, è molto semplice. L'hanno voluto fare immediato e che si possa giocare veramente con semplicità. Addirittura le regole si spiegano in 5 minuti. Io l'ho spiegato a mia moglie, che non ci aveva mai giocato, nemmeno ne aveva sentito parlare o si era documentata. In 10 minuti, nemmeno in 5 veramente, l'aveva già capita e si è fatta una partita. Ci sono i vari setup delle mappe. Ogni mappa ha una missione, che ne so, la prima missione dovete trovare Newt, la seconda dovete entrare nel Niro delle Xenomorphi, se vi ricordate. Nel terzo vi dovete difendere dall'assalto, e nel quarto scappare per poi nuclearizzare. E c'è una missione finale, se comprate l'espansione alternativa, che vi fa combattere sulla Sulaco, con Ripley che c'ha il Power Loader, se vi ricordate, contro la regina aliena. I personaggi del film ci sono tutti, e le regole sono molto semplici. Voi dovete scegliere un personaggio, e tutto il resto sono Grant. Un po' come abbiamo visto nei deck building, mi viene l'esempio di Legendary Encounters Aliens. Voi dovete scegliere un solo personaggio, però poi ne guidate più di uno, perché la squadra deve essere sempre composta da 6. Ci sono anche regole opzionali, tipo Bug Hunt, dove è la caccia all'alieno, che è bellino, si fa un po' una corsa all'armamento, dove usate un personaggio solo, partite con la pistola e piano piano sbloccate tutte le armi. Ma nella modalità normale dovete farvi una squadra di 6 Marine, e questi 6 Marine li dovete muovere, dove uno solo sarà il vostro personaggio, perché le carte hanno fronte e retro. Sul fronte c'è il personaggio vero e proprio, con tutte le abilità e in media le caratteristiche più alte, e dall'altra parte c'è la parte Grant, il Gregario, soldato normale. Quindi, che ne so, c'è Ripley, versione personaggio eroe potentissima, e Ripley un po' meno potente, la metà rispetto a quell'altro, però che ha un Grant, ha un Gregario. Voi scegliete Ripley come personaggio principale, poi magari vi prendete il sergente, Pawn e il soldato Frost, o anche Hudson, che vi seguono come Grant. Le regole del gioco vogliono che, quando voi andate a creare la squadra, gli dovete dare un equipaggiamento di partenza. Quindi non c'è pescare le armi. Sarebbe brutto un alien, in bug hunt sì, ma nanta modalità più arcade. Sarebbe brutto giocare alien, che voi arrivate senza armi, e poi, oh, ho trovato una smart gun in una cassa. No, i vostri manini li dovete equipaggiare prima, sia i personaggi, i vostri eroi, che i Grant. Se muore un Grant, chi se ne frega. Se muore il vostro eroe, o i vostri eroi, avete perso la partita. Se muore in tutte e due, partita finita. Se invece muore soltanto un eroe, potete prendere la scheda di un Grant, girarla, a farlo diventare il vostro nuovo eroe, e quell'altro è finito. Se giocate a mappa singola, gli eroi morti, che vi frega, tanto finita la missione, finita la partita, buona serata a tutti, alla prossima. Se giocate la modalità campagna, gli eroi morti non rientrano in partita, per quanto gli alieni, come dice Ripley, loro non ti uccidano, Newt è viva. Gli xenomorfi mireranno poco ad ucciderti, infatti mireranno più che a tarrapirti, per incubarvi, e far nascere un altro xenomorfo, tramite i chestbuster. Quindi, quando un personaggio X magari viene ucciso, non è ucciso, ma è rapito, le regole del gioco vogliono che potete creare una mappa casuale nel nido, e potete tentare una missione per andarla a salvare, prima che sia incubato. Quindi non sono quattro le missioni, sono molte di più. Potete rischiare la missione, però se altri personaggi muoiono, sono morti, e non conviene fare salvate il soldato Ryan, dove 8 partono per salvarne 1, e poi ne muoiono 7, e vengono via, e in poi rimasti, capito? Non ha senso. Però potete tentarla, è un'alternativa che infittisce le regole da molta longevità. E le regole sono molto semplici, avete una percentuale di colpire, percentuale, tirate un dado, e avete un valore, che ne so, un personaggio che ha valore 7, e colpisce col 7 o meno, tirando il dado. In più potete fare i tiri sostenuti, oppure giocare carte resistenza. Comunque il tiro sostenuto vuol dire che ti puoi sparare quante volte vuoi, e ogni volta che vai a colpire, scali l'indicatore delle munizioni. Quindi da 7, scali a 6, quindi colpirai col 6 o meno. Rispara ancora 5, col 5 o meno. Perché a son di sparare è normale, che poi a son di fare raffiche sostenute, diventi anche più impreciso, rispetto che a prendere la mira, a fare un corpo solo. E poi ci sono i mazzi resistenza, che è la cosa più importante. Avete un mazzo generale per tutti voi, che è un mazzo delle carte resistenza. Questo mazzo, quando prendete una carta, la dovete girare, tappare e diventa usata, esausta, oppure da esausta, se la dovete tappare ancora, diventa scartata. Le carte scartate non si recuperano più. Le carte esauste potete far riposare i personaggi, per ristapparle e riutilizzarle. Regola vuole che quando tutto il mazzo delle carte, finisce nella pila delle scarte, avete perso. Quindi è un po' un mazzo delle energie, dei vostri personaggi. Se voi cercate di far fare tutto, ad esempio con la smart gun, Vasquez e Drake, che tirano, che hanno bisogno di 3 carte, loro sparano e distruggono tutto. Però poi gli altri marine non hanno abbastanza carte per agire, quindi è un po' la resistenza generale del gruppo di marine che dovete riuscire a tenere sotto controllo. Poi ci sono carte imprevisti, carte evento, missioni da fare, oggetti da prendere. Addirittura nella prima missione siete chiamati a recuperare Newt, che scappa in giro per l'LV-426, per la base di Acheron, e voi la dovete rincorrere. Insomma, è molto varia come gioco ed è veramente vi fa rivivere il film al 100%. Valutazione finale, i componenti sono veramente belli, ben fatti, non è la roba della Prodos, ma grazie al cavolo si stampa con le stampanti in 3D, e ce l'abbiamo sia in resina che a filamento. Non puoi pretendere il dettaglio della resina su una miniatura, tra l'altro più piccola, perché queste sono 28, quelle altre erano 32, 32 in resina, 28 in plastica, non puoi pretendere lo stesso dettaglio di quell'altra, che è roba da un museo. Ragazzi, la roba della Prodos è da un museo, questa no, però ci stanno bene, fanno la loro porca figura, ci stanno veramente tanto. Ora, non è che prendi la miniatura, a parte i ripliche, una donna, però rispetto, magari prendi Hudson, prendi Frost, e prendi X, e le metti accanto, non è che dal dettaglio le riconosce che sono loro, capito? Non è che hanno scolpito bene la faccia dell'attore, non lo puoi fare sulla plastica, però rendono veramente molto bene le Xenomorphie e tutto. Ho apprezzato forse leggermente meno i tile di gioco, che sono un po' abbozzati come tipi di disegno, come grafica, sono un po' troppo semplicistici, però, occhio, è anche vero che il gioco costa 50 euro, cioè ragazzi, costa 50 dollari sto gioco, che poi in Italia, vabbè, è convertito, il cambio valuto è 50 euro, non si sa perché, però, costa 50 euro, per quello che costa, diciamo che la componentistica c'è tutta. Ora, ho apprezzato da morire il gioco, ti fa calare veramente nei panni del film, ma quella è una cosa bella, non è una cosa astratta, inventatevi voi la storia, è proprio il fin di Aliens, e vi ci fa calare ragazzi, voi rigiocate il film, voi siete nel film, è fatto veramente da paura, e tutte le situazioni più belle del film le ritrovate, le Sentry Gun, la battaglia finale con la regina, c'è tutto, tutti quanti, se prendete tutte le espansioni, ci avete tutti i Marine, anche quello tipo Wils Borsky, Crow, che si vedono a malapena, mezza volta e dicono mezza cavolata, ci sono anche loro, e quindi, il gioco è veramente completo, forse l'unica regola, che non ho apprezzato più di tanto, è che ti dà una possibilità, quando lo xenomorfo, ti arriva in corpo a corpo, puoi ancora provare a difenderti, picchiandolo col calcio del fucile, ma dove, che se ti arriva, ma chi sei, ma nemmeno The Rock, ma nemmeno The Rock, col BFG 9000 l'ammazzerebbe, cioè, però vabbè, alla fin fine sono, chi se ne frega del regolamento, io sono uno di quelli, che ci mette sempre un po' di home rules, laddove non mi garbano, vado a limare io, quindi chi se ne frega, il gioco è veramente interessante, per tutti i fanatici di Alien, ma non solo, anche chi cerca un bel gioco in cooperativa, secondo me, non se lo dovrebbe far scappare, ora, non vi posso consigliare di comprarlo, da Get Your Fun, perché non ce l'hanno, e anche quando gliel'ho chiesto io, hanno detto, no, non ce l'abbiamo, e non lo prenderemo nel catalogo, quindi è un gioco, che è inutile andare alla chiede, ma hanno già detto di no a me, se lo volete acquistare, dal Manga World di Pescara, vi lascio, vedete, link in sovrimpressione, primo link in descrizione, andandola a comprare da Francesco, tra l'altro che saluto, per avermi mandato tutte queste copie, le ringrazio di cuore, è un negozio, è un servizio ragazzi, impeccabile, andatela a comprare da lui, perché non è il rivenditore ufficiale, ma ne dovrebbe avere ancora qualche copia, perché è tutto esaurito, e dovrete aspettare febbraio, marzo per ordinarlo, ma non dall'Italia, perché non esiste in versione italiana, questo qui, fino a che non lo prenderà la Cosmic, lo dovete ordinare dall'Inghilterra, o dall'America, non mi ricordo dove, quindi ci pagate anche le tasse, e l'importazione, quindi Manga World di Pescara, mi raccomando, se lo volete andare a comprare, primo link in descrizione, e ragazzi, vi piace Aliens, compratelo, non siete fanatici di Aliens, dategli una possibilità, perché è veramente un gioco, molto, molto, molto competitivo, a livello di regole, insomma, bello impegnativo, e se vi piacciono i giochi cooperativi, è un toccasana, veramente, dà paura, ciao ragazzi, alla prossima!